Recensioni di scarpe da corsa. Non ho mai fatto delle recensioni di scarpe da corsa. Il motivo è, nonostante vendiamo scarpe da corsa, che non mi riconosco nel linguaggio, nel vocabolario che si usa comunemente, in modo diffuso, nelle recensioni di scarpe da corsa. Nei cataloghi delle aziende, nei siti web, nei forum, nelle riviste specializzate, eccetera, eccetera. Una classica pubblicità, dice, nuova scarpa Ypsilon versione 13, ancora più ammortizzata, ancora più leggera, design funzionale, avvolge bene il piede per una sensazione di comfort estrema. La scarpa dell'azienda Pinco Pallo versione 14, nuova tecnologia, ancora più ammortizzata, sensazione estrema di comfort, ancora più leggera, non ti fermerai mai di correre. Ormai non ci sono più informazioni vere. Si parla di quasi aria fritta. Si gioca molto sull'emozionalità, su questi concetti. E quindi non c'è informazione. A proposito dell'informazione, proprio ieri ho avuto una chiacchierata simpatica con un fornitore, che produce degli eccellenti integratori sportivi, il quale diceva, ma non voglio fare pubblicità perché non mi voglio mischiare nel calderone degli integratori sportivi commerciali. Giustamente lui dice, io ho un prodotto di estrema eccellenza. Se vado a buttarmi nel calderone, il mio prodotto perde di contenuto. Io sono 5 gradini sopra. Non voglio neanche lontanamente avvicinarmi a loro perché mi fa paura quel calderone. Ok, le informazioni però, chi produce prodotti di qualità, chi fa informazioni di qualità, da un lato è spaventato dal fare una nuova informazione perché manca un linguaggio comune. La gente si è abituata a uno standard molto basso e quindi si fa fatica a capire uno standard diverso. Però trovo che bisogna comunque approcciarsi e provare a fare un'informazione diversa, con molta umiltà, altrimenti lo standard andrà sempre verso il basso. Dei prodotti, dell'informazione, dei servizi. Siamo troppo abituati alla standardizzazione e alla banalizzazione, quindi che si traduce in estrema superficialità delle cose. Ci informiamo con estrema superficialità, prendiamo tutto con estrema superficialità. Proviamo a fare delle recensioni che diano delle informazioni con un linguaggio comprensibile da tutti, sia chi corre da 5 mesi, sia chi corre da 5 anni, sia chi corre da 50 anni.